Un'occasione per far vedere quello che si è capaci di fare, anche nel contesto difficile in cui si vive tutti i giorni. Il ruolo di una parrocchia è anche quello di mettere in risalto il buono della sua comunità di riferimento, e lo è ancora di più per i salesiani. Non è un caso quindi che la parrocchia del Redentore di Bari abbia cercato attraverso un concorso di scovare i giovani talenti dai 14 ai 30 anni del quartiere in libertà del capoluogo, e non solo. Musicisti, pittori e fotografi che per una sera hanno avuto il loro quarto d'ora di celebrità nel cortile dell'oratorio del Redentore. Il tema scelto per quest'anno è Liberi di Sognare, un tema che si rifà al territorio di libertà, liberi, e Sognare vuole esprimere un po' la capacità di andare oltre le difficoltà che un territorio presenta. Liberi di Sognare è una metafora anche culturale, sociale, perché descrive il mondo giovanile, precario, e la voglia però di andare avanti, di non abbattersi di fronte alle sofferenze e alle difficoltà. Una missione vera, magari diversa e molto più rock dell'azione pastorale classica, ma di certo molto efficace. È un po' una caratteristica di Don Bosco, è una caratteristica di noi salesiani, cercare di far entrare ogni giovane all'interno di un contesto comunitario per poter dire ciò che è meravigliosa dentro di sé. E dirlo con le espressioni più diverse, dalla musica all'arte, alla danza, al gioco, all'entrare in relazione con tutti. Il contesto ne ha bisogno, perché ha bisogno proprio di ricostruire rapporti autentici e rendere visibile proprio una convivenza che sia veramente espressione di gioia e di festa.